L'affidamento in house del servizio rifiuti al Cogesa rappresenta scarsa trasparenza, costi maggiorati a carico dei cittadini e nessuna certezza per i dipendenti. E quanto afferma alla vigilia del Consiglio Comunale Alberto di Giandomenico, responsabile di Casa Pound Sulmona. Circa due anni fa, prosegue di Giandomenico, il sindaco Ranalli, quando faceva ancora parte dell'opposizione in Consiglio Comunale, era un convinto assertore dell'affidamento con gara di ogni servizio comunale. Oggi si rimangia quanto detto in passato e propone con la sua giunta al Consiglio Comunale di affidare direttamente e senza alcuna gara il servizio più rilevante da un punto di vista economico, cioè quello della gestione dei rifiuti al Cogesa. Per Alberto di Giandomenico si tratta di un indietrofront che non convince, anche e soprattutto viste le cifre in ballo. Un affidamento di 10 anni per un importo anno di 3 milioni e 400 mila euro, per un totale di 34 milioni. Il tutto affidato in maniera diretta, senza alcuna procedura competitiva e con una relazione che i dirigenti comunali si sono guardati bene dal firmare, in cui si cerca disperatamente di convincere i cittadini che il soddisfacimento dei requisiti per un affidamento in house è assicurato. Alberto di Giandomenico avverte poi del rischio che si potrà correre dopo la sentenza del Tarabruzzo di qualche mese fa verso il comune di Castellisangro, alla luce della diffida arrivata ora dalla Undis all'amministrazione di Sulmona e a tutti i consiglieri comunali a non procedere all'affidamento diretto del servizio. Non capiamo poi perché, afferma ancora nel marzo 2013, Cogesa, per rilevare lo stesso servizio e portarlo ad una percettuale di differenziazione del 66%, chiedeva un compenso di 2 milioni e 900 mila euro. Oggi invece, per la stessa percettuale, chiede 3 milioni e 400 mila euro, ben 500 mila euro in più, che dovranno uscire dalle tasche dei cittadini, afferma ancora Alberto di Giandomenico. Ma com'è possibile che il nostro sindaco, molto esperto di contabilità, non si sia accorto di queste marcate differenze, si chiede il responsabile di Casa Pound Sulmona. Viste le premesse, con assoluta certezza, conclude, questa situazione innescherà una serie di contenziosi nei mesi a venire. Speriamo solo che in tutta questa situazione, molto traballante, sotto il profilo della legittimità e della economicità, trovino una definitiva sistemazione i dipendenti del servizio, che ormai da tempo aspettano una definizione certa dell'intero sistema di gestione dei rifiuti.